Abbiamo parlato in diversi video di Michael Burry, ovvero colui che ha previsto la grande recessione del 2008 e dalla quale Beato Lui ha guadagnato oltre 100 milioni di dollari. Quest'uomo è un pessimista ai massimi livelli, tuttavia in alcuni contesti devo dire che bisogna ascoltarlo. Di recente ha pubblicato un altro tweet, l'ennesimo della serie, in cui avverte il mercato per il nuovo crollo che sta arrivando. E questa volta ragazzi, mi dispiace dirvelo, ma sono dalla sua parte e tra poco vedremo perché. Comunque attualmente Michael ha venduto tutte le azioni che aveva in portafoglio. Aveva le azioni di Meta, le ha vendute. Aveva le azioni di Alphabet, le ha vendute. Global Payments, le ha vendute. E tutte le altre. L'unica eccezione è stata determinata dalle azioni di Joe Group che le ha comprate. Ne ha comprate ben 501.360 azioni di questo fondo di investimento immobiliare che investe in strutture per la salute mentale. E devo dire che è stata una bella mossa. Pensate che il 15 agosto, ovvero lunedì durante Ferragosto, il titolo ha aumentato il valore delle proprie azioni del 12%, facendo guadagnare a Michael un bel po' di quattrini. Attualmente il valore di queste azioni all'interno del suo portafoglio è di 3,3 milioni di dollari. Quindi sì, questa volta Michael sta facendo sul serio. Ma dobbiamo veramente preoccuparci di quello che sta dicendo Michael? Ecco ragazzi, in questo video vedremo esattamente il tweet di Michael Barri. Cercherò di essere il più esaustivo possibile con questo tweet. E cercherò di spiegarvi perché questa volta devo dire che l'annuncio di Michael potrebbe essere veritiero e perché io in questo momento sono dalla sua parte. Quindi cerchiamo di capire un attimo come stanno andando i mercati, quello che sta succedendo e poi trarremo le conclusioni insieme. Verso la fine del video vi dirò esattamente cosa sto facendo anche io personalmente con il mio portafoglio. Nei primi sei mesi del 2022 l'S&P 500 è crollato del 21%, mentre il Nasdaq ha dovuto affrontare un crollo ancora più duro, ovvero del 28%. Ma qualcosa di sorprendente sta accadendo nell'ultimo mese. Il Nasdaq è cresciuto del 24% negli ultimi 30 giorni. Invece l'S&P nel mese di luglio ha registrato il suo miglior mese dal 2020, registrando un più 9,1%. Quindi una crescita pazzesca. Tuttavia Michael dice di stare calmi e di stare cauti perché rimbalzi come questi, che stiamo vedendo proprio ora, durante il bear market, sono più che normali. Però molto spesso sono dei rimbalzi finti, delle vere e proprie bull trap, che alla fine si traducono in crolle ancora più dirompenti prima del raggiungimento del fondo di mercato. In pratica Michael sta dicendo che attualmente questo breve sollievo dovuto al rialzo dei mercati possa avere la vita corta. Comunque se prendiamo dei dati dal punto di vista storico, possiamo accorgerci che questi periodi di rialzi nei bear market sono più che normali e che spesso però si traducono in cali ancora più forti. Per esempio nel 1998 il mercato era aumentato di valore del 20%, prima dell'arrivo di un nuovo crollo del 23% che ha fatto crollare il mercato in poco tempo. Nel 2000 durante il bear market si sono verificati ben tre rialzi diversi. Ovviamente tutti e tre falliti. Un rialzo addirittura aveva fatto aumentare il mercato del 40% facendo credere agli investitori che fosse arrivato l'inversione rialzista della tendenza di mercato, cosa che non è accaduta. Invece nel 2008 che cosa è successo? È successo praticamente la stessa cosa. Ci sono stati diversi momenti in cui sembrava che il mercato potesse risollevarsi ma poi è ripiombato in un crollo ancora più forte. Quindi basandoci sulla storia dobbiamo dare un punto a favore delle dichiarazioni di Michael Barney. Infatti durante gli anni passati, durante i bear market passati, questi aumenti del mercato, quindi questi inaspettati sollievi, sono stati più che diffusi. Tuttavia nella maggior parte dei casi sono tradotti in crolli che hanno fatto bruciare molti investitori perché chiaramente quando vedi che dopo un crollo del 20-30% il mercato risale verso l'alto, preso dalla FOMO vieni spinto ad investire pensando che ci sia un'inversione di tendenza. Ma molto spesso queste sono delle bull trap, ovvero fanno presagire ai investitori che ci sia un'inversione della tendenza di mercato, ma invece si traducono in un'inversione verso il basso che fa perdere ancora più valore alle azioni dei vari titoli. Negli ultimi 30 giorni l'S&P è su del 13%, mentre il Nasdaq addirittura del 24%. Parliamo di una crescita pazzesca nonché inaspettata. Tuttavia dobbiamo stare tranquilli perché l'inflazione è ancora all'8,5%. Oltre a questo si è acceso un nuovo scontro fra Cina e Stati Uniti per il controllo da parte della Cina su Taiwan che, come ha già detto Xi Jinping, considera questa missione una missione sacra e vuole a tutti i costi la riunificazione. Ovviamente gli Stati Uniti tengono la testa alta e non vogliono permettere alla Cina che questo accada. Oltre a questo continua a farsi sempre più forte lo scontro, nonché il conflitto fra Russia e Ucraina, che sta flagellando la popolazione ucraina. Non dimentichiamoci che il Covid c'è ancora e possibilmente quest'autunno i casi potrebbero aumentare ancora di più. E chissà, magari ci aspettiamo nuovi lockdown in Cina. In Cina c'è attualmente una crisi piuttosto importante anche causata dal mercato immobiliare. Questa crisi potrebbe avere delle ripercussioni a livello planetario. E poi non dimentichiamoci che gli Stati Uniti sono accaduti in una recessione tecnica, essendo che per due trimestri consecutivi il PIL è risultato negativo. Quindi considerando tutti questi fattori, a detta di Bury non ci sono tutti i meccanismi e tutte le fondamenta solide per poter sostenere questo Novorelli. E la cosa peggiore è che gli investitori stanno tralasciando il rischio di recessione, pensando che si possa evitare. Un altro motivo legato all'euforia degli investitori è determinato dall'ultimo rapporto sulla forza lavoro negli Stati Uniti. Pensate che a luglio negli Stati Uniti i posti di lavoro sono aumentati di 528.000 unità e la disoccupazione è calata al 3,5%. Sicuramente degli ottimi dati. Tuttavia io personalmente all'orizzonte vedo un panorama un po' diverso. Anche considerando un po' quello che ha detto Walmart e quello che ha intenzione di fare. Nelle scorse settimane Walmart ha affermato che per il resto dell'anno vede un calo dei suoi profitti e ha affermato che le persone stanno spendendo di meno i consumi si stanno abbassando per il fatto che l'inflazione ha fatto aumentare il costo del cibo e il costo del carburante. E quindi attualmente le persone stanno spendendo di meno in mobili, in elettrodomestici, prodotti tecnologici, eccetera. E Walmart ha intenzione di abbassare il prezzo di alcuni prodotti. Il problema è che questo potrebbe causare un effetto palla di neve perché se Walmart abbassa il prezzo di alcuni prodotti automaticamente abbassa il suo margine. Se abbassa il margine abbasserà anche il suo profitto e se abbassa il suo profitto non può andare avanti di questo passo dovrà per forza tagliare della forza lavoro. Ed è quello che sta purtroppo facendo Walmart e questo è un grosso segnale d'allarme. Stiamo parlando del più grande datore di lavoro privato negli Stati Uniti con 1,7 milioni di dipendenti. E purtroppo questa scia la sta seguendo anche Tesla, anche Twitter, anche Coinbase e tante altre società di grande calibro. Perché è chiaro che quando i consumi diminuiscono e i tuoi costi rimangono alti devi per forza tagliare i costi licenziando il personale. E se licenzi il personale, le persone non hanno più lavoro, non hanno più soldi, i consumi si riducono ed è tutto un circolo vizioso che provoca più conseguenze per l'economia intera. Io comunque non sto dicendo che questo crollo possa avvenire da qua ai prossimi giorni. Secondo me è un arco temporale un pochino più lungo. Potrebbe avvenire da qua ai prossimi 3-4 mesi. Magari questo nuovo rally potrebbe durare fino alla fine dell'anno e poi tradursi nel crollo di cui stiamo parlando proprio oggi. Ma come mi sto muovendo io per quanto riguarda i miei investimenti? Da un paio di settimane ho cominciato a vendere tutti i titoli con il più alto profitto all'interno del mio portafoglio. Perché ragazzi, sono convinto anche io che questo crollo possa essere inevitabile. E non sono convinto perché lo dice Michael Barri, assolutamente no. Ma perché ho valutato diverse caratteristiche anche in concomitanza con il conflitto fra Russia e Ucraina, con il gas che aumenta sempre di più di prezzo, con il gas che potrebbe non esserci in Europa, col fatto che l'inflazione è ancora a livelli alti, con l'incremento dei tassi a settembre. Insomma, tutta una serie di cose che mi hanno fatto capire che un possibile crollo ci sarà per forza. E quindi attualmente in portafoglio ho il 68% di liquidità. E spero davvero nei prossimi 60 giorni di poter vendere alcuni fondi che mi daranno la possibilità di aumentare ancora di più la liquidità per poi entrare quando il crollo arriverà. Comunque non prendete tutto ciò che sto dicendo come consiglio finanziario, mi raccomando. Agite sempre con la vostra testa. Valutate prendendo spunto da ciò che dicono diverse entità che magari voi seguite, ma poi agite sempre con la vostra testa perché è questo ciò che conta.